Siamo in diretta col confessionale, che cosa c'ha da chiedere al Vescovo? Una bella confessione? No, no, il Vescovo ci deve soltanto dare una bella benedizione che ne abbiamo urgentemente bisogno. Io ci credo e sono sicuro che tra la fede, che speriamo che possa cambiare un attimino anche le nostre sorti a livello di fortuna, faremo un grande campionato. Pare che il Monsignor Leuzzi abbia una sorta di magia, sia molto vicino anche al Papa Francesco che tifa per il San Lorenzo, questo lo sappiamo, che è un grandissimo tifoso. E anche il Monsignor Leuzzi pare che porti molto, molto fortuna. Beh, lo speriamo, noi stiamo qui proprio per questo, quindi se ci porta per questo siamo tutti felici, tu in primis e tutti quanti. Io in primis, poi dico a tutti i dirigenti, di fare anche un piccolo dono interiore a noi perché siamo venuti qui oggi. Io dentro di me so cosa devo fare. Mi dovete promettere che ognuno di voi vi impegnate a fare un qualcosa per voi e per gli altri dentro di voi e così lo dico a voi giocatori. E' una promessa che dovete fare non a me o al Vescovo ma a chi sta sopra di noi perché oggi venire qui significa che noi dobbiamo fare un sacrificio personale. Lo scambio tra voi due, eccellenza, un consiglio tattico si può dare al Presidente? Bisogna giocare non solo per partecipare ma anche per vincere. Ma è fondamentale vincere? Purtroppo nel calcio e nello sport giochiamo tutti per vincere, nessuno per perdere. Lui era un centravanti, passava la palla o era un po' egoista e tirava? No, di solito passavo, non ho mai avuto molto desiderio di essere primo. La vita di squadra è molto importante. Lei ha parlato anche di esempio, l'importanza dei giocatori di dare il buon esempio ai ragazzi, il senso dell'oratorio. Sì e oggi è molto importante, i nostri giovani aspettano di avere punti di riferimento e un giocatore oggi ha una grande responsabilità perché grazie ai mezzi di comunicazione e questa possibilità che loro hanno, da loro dipende un comportamento dei ragazzi. Quindi se ci sono bravi i giocatori, qualunque sia lo sport, i ragazzi li imitano e questa è una grande responsabilità per loro. Presidente, è una persona importante e ha promesso anche una visita durante le partite. Sicuro ma credo che un uomo di Dio come lui, ancora più di noi, oggi è stato un esempio per tutti noi, veramente positività grande, emozioni grandi. Sono stato molto felice di conoscere il nostro Vescovo perché oggi mi ha insegnato veramente delle bellissime cose e ha avvicinato tutti noi. Questa è la cosa più importante che oggi in questa sede noi abbiamo visto di persona, cosa potrà smettere delle parole importanti. Grazie.